. Anticipazioni Una vita, puntate spagnole, Pablo Moret Una vita, anticipazioni puntate spagnole, il triste destino di Pablo. . Pablo sarà ancora in pericolo nelle prossime puntate di Una vita. Le anticipazioni straniere della SOP, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, svelano che il fratello di Manuela dovrà far fronte a un destino avverso. . Le anticipazioni spagnole di Una vita svelano che dopo essersi ripreso da una brutta caduta da cavallo, il ragazzo rischierà nuovamente la vita. . Gli abitanti di Acacias 38 saranno sconvolti da un terremoto che provocherà il crollo di diversi palazzi e metterà in pericolo la vita dei residenti. . Pablo in particolare resterà schiacciato dalle macerie nel Palazzo dei Valverde, una nuova famiglia che presto farà il suo ingresso a una vita. Il ragazzo verrà tirato fuori in stato dincoscienza. . Per il fratello di Manuela ci sarà lo stesso triste destino della sorella? Leonor sarà sconvolta per le sorti del marito e farà di tutto per salvarlo. . . Anche la giovane resterà ferita dopo il terremoto, ma le sue condizioni non saranno preoccupanti. Leonor non lascerà nemmeno un attimo il marito dopo lincidente. Nonostante le condizioni di salute non ottimali, la Hidalgo continuerà a pregare al capezzale dellamato. . Una vita, puntate straniere, il piano diabolico di Ursula. . Le anticipazioni spagnole di Una vita svelano che il terribile terremoto che sconvolgerà i personaggi della SOP di Aurora Guerra nelle prossime puntate di Una vita, colpirà anche Yaime Aldai, il padre di Cayetana Sotelo Ruz. . . L'uomo, nelle puntate iberiche, sarà vittima di un incendio che colpirà anche la Sierra. Teresa morirà a Una vita? . 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